Assessore, che cosa risponde alle segnalazioni in merito a Envigliano e Gusanti? Quante sono state le multe elevate? Due sono state elevate perché i vigili sono stati chiamati, per cui abbiamo le segnalazioni al telefono registrate. Quando il corpo di polizia viene coinvolto su chiamate specifiche, vanno e hanno registrato solo due situazioni di irregolarità. Chiaramente durante i lavori di via Envigliano e Gusanti, che è comunque una traversa di un'arteria di traffico importante come quella di via Gramsci, la presenza comunque di qualcuno che ordini il traffico è importante. Naturalmente il buonsenso deve essere alla base di tutto ed è quello che comunque sicuramente hanno utilizzato. Bisogna avere un po' di pazienza nei confronti dei lavori che speriamo finiranno nel minor tempo possibile. Le segnalazioni che ci sono arrivate, perché comunque lì transitano molti pedoni, come avete visto c'è l'attraversamento verso la Caserma Polini, verso gli esercizi commerciali da una parte e l'altra di via Gramsci, per cui con un cantiere in corso i pedoni devono comunque essere tutelati rispetto anche a un importante mole di traffico. Questa è la nostra priorità. Chiaramente si dovrà essere comunque tutti ragionevoli, i vigili compresi.